alluvione figliuolo a pesaro annuncia 55 milioni per le marche cadavere trovato sul metauro indagine su identità e causa del decesso a pesaro partiti cinque giorni di festa dei fiori il lotto bacia a pesaro vinti 250 mila euro il teatro rossini torna ad ospitare concerti buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è mercoledì 4 ottobre apriamo questa edizione con la visita nella provincia di pesaro urbino del generale francesco paolo figliuolo commissario straordinario alla ricostruzione conseguente all'alluvione di maggio che ha procurato gravi danni come ben sapete nella regione marche e ben 16 vittime in emilia romagna questa mattina figliuolo ha dato rassicurazioni su cifre tempi e procedure per quel che riguarda gli interventi e i ristori previsti vediamo a cinque mesi dall'alluvione che lo scorso maggio ha contato 16 vittime in emilia romagna e procurato ingenti danni anche fra marca e toscana il generale francesco paolo figliuolo commissario straordinario alla ricostruzione per le tre regioni in questione ha fatto tappa questa mattina nella sede della provincia di pesaro urbino fornendo rassicurazioni ai territori martoriati riunitisi per l'occasione le marche otterranno 55 milioni di euro per 171 interventi 25 milioni di euro dei quali con esigibilità nel 2023 compresa la progettazione per interventi sul 2024 relativi a ricostruzioni e riparazioni figliuolo ha illustrato un'ordinanza pilota relativa ai fiumi che punta su semplificazioni di procedure per garantire celerità su interventi e rimborsi e questa sarà l'ordinanza madre perché questo quadro di semplificazioni sarà inserito anche per la rete viaria e per le altre opere ha un quadro di semplificazioni importanti qui abbiamo avuto il parere dell'autorità nazionale anticorruzione del ministero infrastrutture e trasporti ministero dell'ambiente e della cultura sostanzialmente conferenza dei servizi semplificata con tempi ridotti possibilità di effettuare opere entro i 500 mila euro con affidamento diretto fino a un milione con tre operatori economici fino a due milioni con cinque operatori in provincia figliuolo è stato accolto dal presidente dell'ente paolini in compagnia dell'assessore regionale aguzzi del collegamento da remoto del prefetto greco e dalla presenza dei sindaci dei sette comuni provinciali inseriti finora nello stato d'emergenza vale a dire pesaro fano urbino gabice mare monte labate monte grimano terme e sanzo corvaro uditore sette comuni provinciali che ora diventano 12 dopo il riconoscimento ufficiale dello stato d'emergenza anche per macerata feltria pian di meleto tavoleto frontone e urbagna che rientreranno nel novero degli stanziamenti per le marche di più di 55 milioni e 160 mila euro di cui oltre 25 milioni con esigibilità 23 quindi opere che saranno tutte fatte nel 23 o progettate nel 23 e poi successivi 27 milioni diciamo saranno nel 24 opere del 2024 quindi ritengo un buon quadro e poi chiaramente come ho detto in sala agli amministratori locali siccome l'alluvione è molto complessa ed è diverso rispetto a un sisma che chiaramente anche quella è una tragedia ma una volta avvenuto a bocce ferme si capisce bene cosa fare nell'alluvione un intervento che oggi si pensa procrastinabile potrebbe diventare di sommo urgenza perché magari una frana si muove e noi col buon senso agiamo subito non è che dice siccome non era perimetrato non lo mettiamo ecco volevo rassicurare questo così come tutti gli interventi che sono hanno un nesso causale con l'alluvione sulle opere pubbliche strade e fiumi vengono fatte indipendentemente se l'area è inserito o meno nella nell'emergenza dopo l'incontro in provincia il generale figliuolo ha visitato di persona il territorio di monte grimano terme uno dei comuni più martoriati della provincia territori ai quali sono state date garanzie per ristori previsti che arriveranno entro fine 2023 ristori per le famiglie imprese completi con il tempo necessario che ci vuole a istruire le pratiche tutti noi abbiamo inizialmente proposto a livelli nazionali tutti i comuni che avevano subito danni che erano oltre 160 ovviamente non sono stati presi in considerazione sono stati giudicati anzi eccessivi da parte del dipartimento nazionale rispetto ai 90 della Emilia Romagna su questo quindi abbiamo fatto una ricognizione più puntuale ed inizialmente sono stati riconosciuti di stato emergente solo sette comuni quelli del pesarese che erano qui oggi presenti su questo come regione Marche abbiamo fatto un'ulteriore ricognizione ed approfondimento abbiamo diciamo anche individuato dei criteri là dove era piovuto di più là dove c'erano maggiori danni evidenziati dai comuni abbiamo diciamo sovrapposto questi criteri abbiamo richiesto sopra luoghi nuovi sopra luoghi in 53 di questi comuni marchigiani ulteriori 53 la visita da parte del dipartimento nazionale della struttura del generale filvolo è avvenuta puntualmente e li ringrazio ma di questi 53 comuni di nuovo rivisitati solo 17 attualmente sono stati presi in considerazione e quando dico presi in considerazione non uso un'altra parola perché ancora non è stato dichiarato su questi lo stato d'emergenza ma sono fiducioso che questo avverrà per quel che riguarda la provincia di peso urbino sono macerata feltrea pian di meleto tavoletto frontone e urbania poi è stata presa in considerazione anche senigallia che aveva avuto seri danni che inizialmente non era stata presa in considerazione altri comuni sono mi pare un paio nel maceratese e il resto comuni del fermano che inizialmente non erano stati individuati che invece avevano avuto sinceramente seri danni perché noi eravamo stati in apprezzazione in quelle ore sia per il fermano che per il pesarese quindi ecco 17 comuni sui quali credo che sarà individuato un nuovo stato d'emergenza e conseguentemente nuovi finanziamenti che non anche su questo voglio essere chiaro non farà saranno suddivisi quei 55 milioni già individuati per i sette comuni del pesarese saranno ulteriori fondi perché altrimenti qualche sindaco si cominciava a preoccupare in questo senso iniziare a lavorare subito in attesa di ristori di fondi per risistemare la viabilità che comunque compromessa come dicevo ci sono dei comuni che rientrano in dei finanziamenti che hanno avuto sulla viabilità e magari il comune confinante che ha subito la stessa frana è giusto come ha detto oggi anche generale figliolo che rientri nel finanziamento perché sarebbe assurdo che una strada interrotta a metà perché un comune è stato riconosciuto all'altro no ed ora cambiamo argomento perché sono in corso le procedure di identificazione del corpo senza vita trovato ieri alla periferia di fano vicino alla riva sinistra del metauro e al ponte sulla strada sulla statale adriatica l'uomo apparentemente di giovane età risultava in stato di decomposizione era senza vestiti e senza documenti a trovarlo è stato un cercatore di funghi che ha subito segnalato il fatto alla polizia intervenuta sul posto con gli agenti della scientifica il cadavere stato ora trasferito all'obitorio di fano per approfondimenti sulle cause del decesso che apparirebbe risalente a oltre un mese fa sul caso aperto un fascicolo la procura di pesaro e restando a fano in questo caso nella zona pincio i carabinieri hanno denunciato un uomo su cui gravava un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divietto di ritorno nel comune di fano emesso a suo carico dopo una rapina commessa la scorsa estate nella zona del lido l'uomo è stato denunciato nell'ambito di una serie di controlli intensificati da parte dei militari in zone sensibili della città in quanto teatro di recenti aggressioni come piazza miani la rocca malatestiana e lo stesso pincio carabinieri e polizia in azione anche a pesaro ieri sera nel quartiere di villa san martino dove è stata sgomberata un'abitazione che veniva occupata abusivamente da un gruppo di giovani extracomunitari i soggetti in questione si sono sistemati in una casa sfitta e abbandonata di via san martino incendio ieri sera a orciano nel comune di terre roveresche dove i vigili del fuoco sono intervenuti con quattro autobotti e tre mezzi d'appoggio per sedare un rogo che ha devastato un casolare di campagna non ci sono state persone coinvolte nell'incendio e lasciamo ora la cronaca per passare ora alle immagini e ai colori della 69esima edizione della festa dei fiori che è partita oggi in viale della repubblica di pesaro con un'edizione extra large di cinque giornate 4 di ottobre nel giorno del patrono d'italia san francesco d'assisi parte la 69esima mostra mercato delle piante e dei fiori ornamentali più comunemente conosciuta come la festa dei fiori una festa che per il secondo anno si trova in viale della repubblica l'anno scorso era una novità condizionata anche dai lavori di rifacimento di piazza del popolo ma l'esperimento a quanto pare è riuscito i florovivaisti tornano sul lungomare tra centro e mare tra centro e la palla di pomodoro in questa che è una location apprezzata così come viene apprezzata questo allungamento a cinque giorni di festa dei fiori san francesco per i pesaresi è la festa dei fiori quindi che abbia preso questo giorno e poi a seguire fino al fine settimana va benissimo l'abbiamo molto apprezzata questa posizione perché è molto più pratica per noi e ho visto anche per comunque i clienti che riescono anche a prendere le piante portarsele in macchina quindi è molto più agevole diciamo come posizione sembra di stare quasi a giugno è spettacolare c'è un sole meraviglioso anche le persone sorridente l'ambiente stare in mezzo al verde comunque tocca il cuore stanno sono cinque giorni e per fortuna si presenta una bella settimana davanti e sarà comunque carica perché un giorno più insomma porta tante persone ci sarà tanto lavoro da fare ma sempre felici la festa dei fiori è un tradizionale biglietto da visita su quelli che sono i colori autunnali apprezzati anche da temperature un po' meno autunnali che però agevolano la passeggiata in questo che è un viaggio alla scoperta della tradizione tra fiori piante piante grasse ma anche oggetti come quelli di terracotta le zucche che ci fanno da ponte verso halloween una linea comune poi ognuno ha le sue specificità quest'anno e sono le zucche che abbiamo coltivato noi dove produciamo e quindi sono la nostra produzione e più abbiamo sempre i nostri ciclamini che lo sta allo stesso modo produciamo e poi rivendiamo direttamente qua partiamo dai fiori poi vendiamo anche i vini e altri prodotti anche prodotti da cucina produciamo a scuola e poi veniamo a venderli qua piante grasse dalle succulenti alle cactace un po di tutto insomma tutta la linea del bonsai e poi quello che proponiamo noi è anche il giardino verticale appunto che si vede qua fuori e il giardino pensile sopra poi i rampicanti insomma le piante come tutti gli altri dai insomma adesso però ecco questo è quello che ci caratterizza anche proprio come vivaio e noi tutti gli anni ecco prepariamo tantissimi bulbi e abbiamo fatto anche delle attività strano stanno tra l'altro abbiamo inserito ulteriormente altre tipologie di bulbi e quindi speriamo che le persone colgano questa cosa e ne piantino tantissimi noi come sempre abbiamo portato i nostri crisantemi perché siamo produttori di crisantemi facciamo dai 15 ai 20 mila vasi ed è un prodotto proprio autunnale loro fioriscono in questo periodo e poi comunque il ciclamino che è sempre diciamo la pianta più gettonata in questo periodo perché nel periodo invernale le fioriture sono comunque diciamo meno rispetto alla primavera e poi c'è sempre qualche novità anche sulle piante da interno le varie tipologie di piante abbiamo visto che anche i giovani stanno diciamo cercando molto le piante più particolari da tenere in casa molte delle quali purificano anche bene l'aria quindi diciamo abbiamo una vasta proposta. Dopo il successo estivo all'istituto Santa Marta di Pesaro il festival utopia simbolo di inclusione lavorativa sta per tornare anche in versione invernale al parco Miralfiore va in questo senso l'impegno del comune che come ci spiega appunto l'assessore Francesca Frenquellucci in questa prossima intervista. Avevamo avuto richiesta sia dei cittadini ma anche dei ragazzi stessi che quest'estate si sono dati da fare presso l'istituto alberghiero e abbiamo capito che era fondamentale abbiamo una mozione presentata dalla maggioranza con la consigliera capogruppo Anna Maria Mattioli quindi insieme all'assessore Belloni ci siamo subito messi in atto per portare avanti questo progetto quindi abbiamo voluto cercare quali erano quelle location che il comune di Pesaro non stava utilizzando sapendo che era finita la concessione presso il parco Miralfiore dove c'è la zona l'area bar e abbiamo pensato di portare un progetto diverso quindi ci sarà una manifestazione di interesse dove appunto ci saranno dei punti chiari e specifici che puntano al sociale all'inclusione nel mondo del lavoro alle persone con disabilità ma con questo non è che vuol dire che creiamo una situazione solamente di persone con disabilità anzi ben venga che ci siano persone che vadano in aiuto del progetto però devo dire e ammetto che comunque il progetto di quest'estate è stato fantastico ha avuto un grandissimo successo perché si è creata una vera comunità una comunità dove anche tutte le altre associazioni hanno partecipato e hanno voluto appunto contribuire e hanno capito l'importanza di questa cosa e ci sono stati alcuni ragazzi che mentre hanno lavorato durante l'estate poi hanno avuto lavoro anche presso alcuni hotel e di questo va fatto un plauso anche ai nostri imprenditori perché hanno capito l'importanza di dare un futuro anche alle persone con disabilità Partirà il prossimo 12 ottobre la campagna per la vaccinazione anti-influenzale in provincia di pesaro urbino che anche quest'anno vedrà coinvolti i medici di medicina generale i pediatri di libera scelta le farmacie aderenti all'iniziativa i centri vaccinali del servizio di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione questi ultimi per quel che riguarda pesaro saranno effettuati nella sede di via nitti per gli adulti e in quella di via nanter per i bambini passi avanti sul progetto di realizzazione della vasca di colmata nel porto di pesaro l'autorità portuale del medio adriatico ha comunicato oggi che entro questo mese di ottobre verranno trasmessi al consiglio superiore dei lavori pubblici gli studi integrativi per l'approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale e il completamento della progettazione seguirà una valutazione d'impatto ambientale da presentare al ministero dell'ambiente che si dovrebbe pronunciare entro 90 giorni pesaro fortunatissima nell'ultima estrazione del lotto la città ha infatti registrato oggi una vincita da 244.500 euro frutto di una quaterna sulla ruota di palermo ignoto al momento il giocatore che ha puntato due euro sulla fortunata combinazione che valsa la vittoria più alta nell'ultima estrazione nazionale si intitola leadership al femminile il convegno organizzato dall'associazione di confcommercio pesaro urbino marche nord terziario donna e che si terrà domenica questa prossima domenica appunto nella sede di confcommercio marche nord e allora vi illustriamo di cosa si tratta in queste prossime interviste domenica domenica 8 ottobre vi ospiteremo nella nostra sede di confcommercio e per questo bellissimo convegno che è stato pensato dal gruppo terziario donna pesaro urbino per stimolare l'imprenditoria femminile e per dare una svolta vogliamo che le imprese femminili siano orientate al futuro e soprattutto che giovani donne che vogliano intraprendere nuovi lavori pensino anche all'imprenditoria femminile noi vogliamo dare degli spunti importanti con relatori d'altissimo livello affiancati per un bellissimo dialogo interessante alle nostre imprendi alle nostre migliori imprenditrici i temi trattati sono fondamentalmente quattro il primo è in print imprenditorialità e innovazione quindi dice il titolo già dice tutto da sé e poi abbiamo il tema del business e sostenibilità ambientale che vanno bene insieme sembra impossibile ma è così quindi si può fare business sostenendo sostenendo il nostro ambiente e poi lo sviluppo della leadership femminile e management quindi queste due parolone grosse che sono sempre state in mano agli uomini qui ci mettiamo le donne a fare leadership management e sviluppo quindi dell'azienda e poi nel primo pomeriggio e ci sarà il tema della felicità economica quindi una scelta a educarsi alla finanza e alle scelte consapevoli quindi essere formate per approcciare alla agli aspetti finanziari della propria attività ma anche della propria vita personale con consapevolezza sarà presente la nostra presidente nazionale anna lapini per cui anche lei porterà un bellissimo contributo di quello che succede a livello nazionale e delle grandi innovazioni che sono in atto se volete partecipare a tutta questa bella giornata dovete prenotarvi alla segreteria chiocciola a scompesero punto it e mi raccomando prenotatevi perché se no non potete partecipare il tutto è comunque gratuito organizzato da terziario donna conf commercio marche nord come avete saputo in questi giorni il teatro rossini ha completato il suo complesso lavoro di riqualificazione e ora chiaramente può riaprirsi alle sue tradizionali performance musicali come quella della 64esima edizione del lente concerti che partirà l'undici ottobre la sede storica e la sede amatissima dal pubblico di pesero e questo ci ha motivato a un nuovo impegno e per garantire la città grandi eventi quindi il programma l'abbiamo per ora è incentrato su questo primo periodo fino a fine anno con cinque appuntamenti di altissimo profilo come tradizione dell'ente concerti nel mese di ottobre avremo due appuntamenti di cui uno che mi vede coinvolto come direttore e sassofonista solista con l'orchestra filarmonica marchigiana un progetto che ho in qualche modo sollecitato io l'orchestra che ho portato anche in tanti teatri e ha avuto un grande successo imperniato sulla musica da film quindi la musica da film con brani classici presi da grandi registi come kubrick per il beryl linton e o anche come nel caso di shostakovich e invece proponendo anche delle partiture che grandi compositori hanno scritto espressamente per il cinema come nino rota e ennio morricone questo è il primo appuntamento del 10 di ottobre che apre la stagione sempre in ottobre avremo il ritorno di vittoria mullova con un ensemble una delle più grandi violiniste del mondo è tanto tanto apprezzata dal pubblico pesarese è stata già ospite almeno tre volte a pesaro il programma proseguirà poi in novembre con il concerto del metamorfosi ensemble è un gruppo formato da cinque solisti veramente di elevatura incredibile e proporranno delle elaborazioni di grandi partiture del balletto e andiamo avanti il 10 dicembre con rami barami che è un pianista che molto legato alla musica di joan sebastian bach pensate che è stato lanciato nei primi anni della sua da bambino da herbert von karajan e un pianista veramente straordinario specializzato in questo repertorio e proporrà un programma interamente bacchiano fino all'ultimo appuntamento della stagione prima di natale con il concerto di natale con francesca dego francesca dego non ha bisogno di presentazione anche lei è stata già al teatro rossini e la violinista in senso declinato il femminile è numero uno in italia giovane e con un talento incredibile e qui sarà un programma classico molto molto bello lei eseguirà il concerto in soldi di mozart un grande capolavoro continuiamo a parlare di eventi in questo caso culinari perché dal 6 ottobre al 19 novembre torna fuori brodetto in 32 ristoranti tra fano pesaro marotta e coglie al metauro sarà infatti possibile gustare la famosa zuppa di pesce a prezzi convenzionati apparentemente fuori tempo sicuramente anche fuori fano in altre parole fuori brodetto sono 32 le attività della città della fortuna e non solo che dal 6 ottobre al 19 novembre aderiranno l'iniziativa promossa da confesercenti federazione dei ristoratori camera di commercio comune di fano e regione marche l'idea nata da una costola di brodetto fest consentirà di degustare l'apprezzata zuppa di pesce a un prezzo convenzionato ben 32 ristoratori hanno creduto nel progetto confesercenti di creare un gruppo per poter poi collaborare non soltanto a livello territoriale perché il fuori brodetto non è soltanto fano si cerca di andare anche al di fuori dei confini fanesi ci sono ben sei ristoranti del territorio di pesaro ce n'è uno di marotta e uno di coglie al metauro quindi l'obiettivo è anche quello di esportare il piatto tipico della marineria fanese anche al di fuori dei confini territoriali oltre il piacere del palato la gara 32 ristoranti appunto dove sarà possibile non solo lungo il periodo di questo mese e mezzo ma anche grazie alle serate speciali partecipare e votare e scegliere proprio il ristorante preferito e durante le serate andremo a decretare i due ristoranti migliori che si sfideranno il 26 di novembre a villa piccinetti in cui verrà decretato il miglior chef e la migliore zuppa fanese che poi porteremo in spagna alla fideua di gandia concorso internazionale con la città noi gemellata dove avrà l'onore praticamente di rappresentare l'italia all'estero per partecipare basta prenotare direttamente i ristoranti trovate tutti i numeri nelle brochure che sono in distribuzione e anche nel nostro sito internet del brodetto feste quest'anno un'altra importante collaborazione è quella con la fanno gastronomica perché durante le 32 serate speciali avremo l'opportunità non solo di gustare e di votare il brodetto fanese ma anche di assaggiare un antipasto un primo della tradizione marinara fanese lo scopo di fuori brodetto non è soltanto quello di valorizzare la tradizione marinara ma anche contribuire a promuovere il territorio anche quando gli ombrelloni sono ormai chiusi nella parola fuori brodetto sta anche il concetto di destagionalizzare quindi operare in un periodo diverso da quello del brodetto fest il brodetto fest la prima settimana di giugno il fuori brodetto ottobre novembre questo per cercare di creare economie ai ristoratori e un po a tutta la filiera del turismo cercando di poter creare un maggior flusso turistico e di clienti in un periodo quale quello di ottobre novembre dove i ristoratori potrebbero lavorare un po meno ecco la stagione appena passata ci ha dato un dato importante e anche allarmante perché c'è stato un forte calo del turismo nelle nostre zone quindi il cercare di fare squadra come dicevo prima e creare sinergia tra i vari operatori ma tra i vari enti in particolare tra i vari comuni e può essere un quid in più per cercare di creare un flusso turistico anche al di fuori come dicevo prima di periodi convenzionali come quello di luglio ed agosto il ruolo di confesar cento è proprio questo cercare di far di cercare di far mettere insieme gli operatori per il loro bene e perché il nostro scopo poi qui alla fine quello associativo è tutto pronto dunque per tornare a gustare del buon brodetto da accompagnare con la giusta bevanda e non è detto che si tratti di vino da quest'anno portiamo tavola appunto anche la birra che abbiamo lanciato quest'estate la brodetto birra questo prodotto questa birra chiara beverina ad accompagnare con la zuppa di pesce ha avuto un grandissimo successo tant'è che i nostri ristoratori hanno avuto l'idea di dire perché non la proponiamo proprio nelle serate speciali e noi abbiamo deciso di accontentarli perché comunque la promozione del territorio della filiera dei prodotti a chilometro zero e a miglio zero per noi sono importantissimi siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate con noi su Rossini tv perché questa sera in prima serata si parla di un argomento molto molto interessante parleremo di finanza parleremo di previdenza ma soprattutto vi daremo dei consigli su come investire anche piccoli capitali lo facciamo con un professionista del settore nicolo del monte che verrà intervistato da antonio astuti in diretta appunto ci vedrete alle 21 e 20 e poi ricordiamo che domani vi aspetto alla rassegna stampa del mattino alle 7 20 sul canale 80 in diretta anche sulla nostra pagina facebook ci potete anche seguire attraverso la nostra applicazione e poi domani domani è la grande giornata dell'inizio della terza stagione di insieme a canestro questo fortunatissimo programma di rossini tv che parla appunto del basket pesarese con elisabetta ferri che vedete nell'immagine giornalista espertissima del mondo del basket domani vi aspettiamo in diretta alle 21 e 20 partecipate scrivete i vostri commenti in diretta perché potrete vincere i biglietti per la prossima partita in casa che sarà proprio questa domenica grazie allora per essere stati con noi vi ricordiamo sempre il nostro numero per le segnalazioni 370 366 72 10 e adesso per voi c'è il meteo noi ci rivediamo domani nella rassegna stampa